Oggi alla LUMSA il convegno organizzato dall'Arcidiocesi di Taranto insieme all'Università di Bari al Politecnico di Taranto dal tema Ambiente, Salute e Lavoro, un cammino possibile per il bene comune. Papa Francesco, nel suo messaggio inviato alla Curia Tarantina per l'occasione, esprime vicinanza alla popolazione e auspica che la proficua riflessione accompagnata da scelte concrete verso stili di vita sostenibili sul piano umano ed ecologico e da un sistema economico che promuova la piena realizzazione della persona, giunga al pieno riconoscimento dei diritti di ciascuno al lavoro, alla salute e alla pacifica convivenza. Intanto il GIP Todisco ha ribadito che gli impianti dell'ILVA potrebbero finire nuovamente sotto sequestro se l'azienda non rispetterà in tempi brevi le prescrizioni dell'AIA alla luce delle violazioni accertate finora. Nelle 40 pagine del provvedimento con cui il GIP ha respinto la richiesta di dissequestro di 230 mila euro avanzata dal commissario Bondi per conto dell'ILVA, viene evidenziato che nello stabilimento responsabile del disastro ambientale non è cambiato nulla e che le emissioni inquinanti sono diminuite in quanto la produzione è stata ridotta. Tornando al convegno, qui non sono presenti il sindaco di Taranto, Ipazio Stefano, il governatore della Puglia, Nichi Vendola, il direttore di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, tutti indagati nell'ambito dell'inchiesta ambiente svenduto. Nel pomeriggio la relazione dei ministri Andrea Orlando e Beatrice Lorenzin, rispettivamente dell'ambiente e della salute, circa le prospettive concrete per la questione ambientale. IoTV continuerà a seguire in diretta TV e web i lavori del convegno durante la trasmissione di approfondimento del giovedì pomeriggio Taranto SRL condotta da Roberto Missiani. Importante riconoscimento per il porto di Taranto da parte dell'Unione Europea. Lo scalo ionico è stato infatti scelto quale nodo terminale del segmento terrestre e ferroviario del corridoio scandinavo-mediterraneo, ovvero l'asse di collegamento che parte da Helsinki fino a Malta e contemporaneamente nodo marittimo di collegamento del corridoio con la Valletta. In tal modo, scrive in una nota il presidente dell'autorità portuale Sergio Prete, il porto di Taranto potrà candidarsi al fine di beneficiare dei fondi che la stessa Unione Europea metterà a disposizione della rete centrale nel periodo 2014-2020. Si tratta di circa 250 miliardi di euro per i vari settori, ambiente, tecnologia, informazione e trasporti. Tragedia a Monteparano dove una donna di 38 anni, Nunzia Abate Matteo, è morta dopo un'ispezione dei tecnici dell'Enel al contatore del bar che gestisce con il marito. Il riscontro di alcune irregolarità nei consumi accertate dagli addetti della società di fornitura di energia elettrica ha provocato nella donna un profondo stato di agitazione. All'improvviso la 38enne ha accusato un malore e si è accasciata sul pavimento. Nulla da fare per i sanitari del 118 immediatamente intervenuti, la donna era già morta. Sul tragico episodio indagano i carabinieri. Il PM Remo Epifani ha disposto l'autopsia che verrà eseguita dal medico legale Marcello Chironi. I carabinieri della stazione di Crispiano hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari il 45enne di Massafra Vittorio Giovinazzi, noto alle forze di polizia perché ritenuto responsabile di due scippi con strappo nei confronti di altrettante donne commessi lo scorso giugno a Crispiano. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP Martino Rosati su richiesta del sostituto procuratore Mariano Buccoliero. Determinante per l'individuazione del colpevole in entrambi gli episodi è risultato il contributo fornito da due carabinieri che liberi dal servizio avevano notato la presenza del 45enne nell'abitato di Crispiano poco prima che fossero commessi gli scippi, riconoscendolo successivamente nelle immagini estrapolate da alcune telecamere di videosorveglianza che lo immortalavano durante le azioni criminose. Circa il declassamento del comando in capo del Dipartimento Marittimo dello Ionio e del canale d'Otranto di Taranto, la Marina Militare scrive che la dipendenza dello stesso dal comando logistico di Napoli è da intendersi in senso funzionale senza implicazioni territoriali in quanto le prerogative, le attribuzioni e le competenze dell'alto comando periferico non vengono ridimensionate o declassate nei suoi aspetti giurisdizionali ma al contrario risultano ampliate. In sintesi, la presenza della Marina Militare sul territorio tarantino nonché i relativi rapporti con le istituzioni locali non sono destinati a subire alcun ridimensionamento né decentramento nel prossimo futuro. Grazie a tutti.